Ciao e benvenuto su Top Tech Italia! In questo video ti presento la top 4 delle migliori biciclette elettriche pieghevoli del 2021. Iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato la bicicletta elettrica pieghevole SpeedReed con batteria a litio. La bicicletta elettrica pieghevole SpeedReed incorpora componenti che sono stati attentamente studiati. Troviamo sulla maggior parte del corpo di questa bici una lega di alluminio. Questo gli conferisce una certa stabilità e una buona leggerezza. Quando si guardano le gomme si vede subito che sono state progettate per resistere all'usura. Infatti sono in grado di accedere a qualsiasi tipo di terreno, anche il più complesso. Inoltre lo SpeedReed è dotato di tecnologia di smorzamento. Questo garantisce una sicurezza totale sulla strada. Questo tipo di bici elettrica ha un motore da 250 Watt, il che è una buona risorsa per la bici in quanto può andare fino a 25 km orari. Come al solito su Top Tech, se si desidera ottenere maggiori dettagli tecnici sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione del video. Lì troverai tutti i link a portata di mano. Al terzo posto abbiamo selezionato la bicicletta elettrica pieghevole o piccol con mozzo a 21 velocità. Vivi la corsa della tua vita con una delle migliori bici elettriche di oggi. Infatti combina potenza e prestazioni per farvi godere al massimo per i vostri viaggi. Ha un telaio in lega di alluminio di grado aeronautico, così offre più leggerezza, resistenza ed iperreattività. Incorpora doppi freni a disco e una forcella in acciaio ad alta resistenza. In questo modo si avrà l'esperienza di guida più confortevole che mai. Troviamo su questa bici un motore brushless, una batteria a litio Samsung da 36 volt, così da dare al conducente la migliore sensazione di guida. Al secondo posto abbiamo selezionato la bicicletta elettrica pieghevole e bike Same Bike. Qui si tratta di una mountain bike che ha le caratteristiche tecniche notevoli. Secondo alcune opinioni una volta che si possiede questa e-bike non se ne vorrà un'altra. Infatti la maggior parte del popolo del web la sceglie come la migliore bici elettrica pieghevole del 2021. Grazie al suo sistema di frenata compatto si beneficia di una sicurezza provata durante tutta la salita e anche su pista. Incorpora un sistema di trasmissione professionale composto da 21 velocità. Possiamo dirvi in aggiunta che questa e-bike di Same Bike pesa soltanto 24 kg. Grazie al suo peso moderato è estremamente leggera per le vostre escursioni sportive. Questa bici può inclinarsi anche fino ad un angolo di 30 gradi, si può anche piegare facilmente per inserirla nel vano del bagaglio. E vi ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per voi su internet cliccate sui link nella descrizione, mi raccomando! Al primo posto abbiamo selezionato la bicicletta elettrica pieghevole Vivi Shimano 21 velocità. Ciò che ha permesso a questo modello di distinguersi per posizionarsi come la migliore bici elettrica pieghevole del 2021 in questa recensione è il suo carattere versatile. Infatti si usa tanto bene in montagna quanto nelle aree urbane, come un roller plate per intenderci. Ha un motore da 250 watt che ti dà molta potenza quando va su una collina. Parlando invece di velocità vi darà più divertimento e libertà adattandosi bene a tutte le vostre esigenze di viaggio. Vivi Shimano incorpora una batteria agli ioni di litio e un sistema di risparmio energetico, così si può godere di un'autonomia compresa tra i 22 e i 40 miglia per carica. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice, vai alla descrizione di questo video, clicca sui link per ottenere tutte le caratteristiche tecniche più complete e trovare i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a decidere metti un like, attiva la campanella ed iscriviti al canale Top Tech Italia per restare sempre aggiornato sui nostri video. Alla prossima, ciao!